Rieccoci, felice inizio di settimana a tutti voi da Marcus, buon lunedì 17 giugno, domani sera decima estrazione del mese, siamo a due colpi per la nuova condizione che ho dato su Milano-Napoli, ci ritroviamo un attimino. Intanto il 90 esce di nuovo sulla ruota di Roma e come è successo anche con le altre ruote quando risortiscono sulle stesse medesime ruote, vanno a rinforzare in teoria, per il discorso dell'ammata contata, le ruote rimanenti. Adesso veramente è già un po' che si marcia, sempre sulla stessa strada e si trova un po' la differenza un po' anomala su queste cose qua. Troppi 90 sulle stesse ruote, ma non ancora i 90 dove dovrebbero sortire, di cui Milano-Napoli, guardate di nuovo Roma, questo è il quadro di sabato 15 giugno, qui ne abbiamo il 90 di Roma che di nuovo si ripropone su Milano-Napoli, cosa che non è ancora uscito. Poi abbiamo il Palermo, quante volte è sortito Palermo? Di nuovo Genova-Palermo, quindi Genova, e poi di nuovo Roma, guardate. Quindi Milano-Napoli, il Milano-Napoli se fortificato come il Genova, perché risortendo su Palermo due volte e due volte Genova. Io vi parlo sempre come teoria dell'ammata contata, che fino adesso si sta dimostrando veramente efficace. Cagliari rimane adesso Torino, Torino è sempre quella meno frequente. Poi, eccola qua, quella che ha fatto arrivare, anziché il Genova, il Palermo, questo di Palermo è ritornato su Palermo, quindi queste sono le ultime proiezioni per il 90. Questo quadro è l'ultimo, sabato 15, e allora classifica che rimane tale quale Genova-Milano-Napoli e Torino. Genova-Milano-Napoli saranno le primarie, o almeno si spera, chi ha delle convergenze, ripeto, anche e soprattutto per i nuovi, chi ha delle convergenze su queste tre ruote, adesso finalmente dovrebbero essere quelle tre ruote principali dove il 90 dovrebbe andare a cadere. Poi, ritornando al discorso della nuova condizione, eccola qua, rimane tale quale con il 52 Milano-Napoli, dove in terza posizione è come strato semplice una sola previsione, una sola, quindi posizione per il 52 è come strato semplice, i 52-68 e il 52-86, ambi che si possono formare anche su tutte e quindi come recupero. Poi, la terzina, la terzina prioritaria comunque come gli ambi sulle ruote fisse come Milano-Napoli, ma la terzina anche su tutte e nazionale, perché vi ripeto, questo sistema può portare i terni anche su tutte e sulla nazionale, purtroppo è da coprire, perché se ci esce Lambo e il terno sulla nazionale, cosa facciamo? Siamo a due colpi, avete visto che quelle che do nell'immediato entro 3, 5, 6 colpi danno o Lambo secco, o Lambetto, o Lambo su tutte, quindi quando succederà una cosa tipo questa come Lambo su tutte, o Lambetto su ruota, poi conclusione e si va avanti. Avete visto? Non è uscito più niente, quindi per quello vi dico una previsione, non ce ne sono altre, c'è solo questa, e quindi consiglio la Milano-Napoli come ruote principali per gli ambi secchi, ma anche la nazionale. La terzina, Lambetto, lo ripeto, almeno se non volete farlo giustamente come ambi, oppure li fate solo sugli ambi, non in terzina, fatelo sulle ruote fisse, Milano-Napoli e nazionale. Poi vabbè, se volete mettere Lambetto nei tre numeri, Milano-Napoli e nazionale, fatelo, nessuna, nessun problema. Allora, questo è tutto quello che vi ho detto, quindi sempre le stesse cose, ma essendo la nuova condizione, quindi si va avanti, un secondo colpo, ne do solo una, vi ripeto, non sono uno che dà sempre tante previsioni, o dall'ultimo minuto, o chi che sia. Ritornando come ultima cosa, la classifica integrale del 90, Genova-Milano-Napoli-Torino. Genova e Milano-Napoli finalmente dovrebbero essere le primarie. Vi saluto a tutti voi, un grande saluto, e poi ci sentiamo comunque. Domani sera se ci saranno dei risultati, comunque questo grosso modo è tutto quello che continuo a ripetere, perché se non c'è nessun risultato per adesso, le condizioni sono queste, sia per il 90 e sia per la nuova condizione, con il 52, ruote, Milano-Napoli. Ci risentiamo al prossimo video, da Marcus è tutto, e ancora buona serata a tutti.